ciao ciao a tutti questo è un video spacchettamento avon campagna 5 e 6 e ci sono alcuni prodotti che oggi vi faccio vedere coordinato per me per mia sorella e per un'amica comincio subito a farvi vedere lo spacchettamento ci sarà in collaborazione la gatta ariel perché chiaramente ogni scatola che lei vede è molto attratta dalle scatole tutte le persone che hanno gatti sanno quanto i gatti amino entrare nelle scatole comunque vabbè con questo ospite speciale oggi facciamo lo spacchettamento di campagna 5 e 6 di aula ora qua ci sono i cataloghi per le presentatrici e comincio subito con due bagnoschiova che mi sono stati presi per un'amica che erano in offerta uno è il amazon jungle e l'altro sarebbe il fruiti margarita questo ha una profumazione fruttata alla pesca non possono usarlo e descriverlo perché essendo che non è per me non posso aprirlo e poi abbiamo l'amazon jungle che in teoria dovrebbe essere una profumazione molto fresca e suppongo un po' erbosa vedendo quella che è la raffigurazione qui di questa cascata in mezzo al bosco allora vediamo i prezzi se riesco a vedere nella fattura era un'offerta 6 ore 50 per tutti e due che sono sempre delle bottiglie abbastanza abbondanti queste qui di Avon tutte e due da 500 ml uno è un doccia crema e questo invece è un doccia schiuma questo è più cremoso quello giallo poi sempre per la mia amica ho preso questa novità che è l'acqua di profumo alla lavanda è stupenda questa visto che l'annuso perché non è che comunque si rovina non è che c'è lo spruzzino ed è veramente buona l'ho sniffata un pochino non so dirvi quanto duri credo essendo un'acqua che abbia la durata che hanno tutte le acque quindi proprio il tempo di farsi la doccia mezz'ora dopo scompare però credo che dia veramente una sensazione di freschezza soprattutto adesso che è estate e poi bellissima la confezione secondo me è bella anche l'idea di fare un regalo e vi dico anche il prezzo di questa che è lavanda o de colonia una colonia è di 6 euro e 50 la novità della Avon alcuni prodotti li ho presi per mia sorella e sono una matita della Avon True nella colorazione Avon True Occhi Sugar Plum anche questa vi faccio vedere il colore ed è un melanzana purtroppo la luce è accesa e siccome fuori sta piovendo non ho la possibilità di fare in questo momento il video con la luce naturale perché poi magari nei prossimi giorni li consegno i prodotti e si vede meno chiaramente che con la luce naturale essendo luce artificiale poi mi sembra mia sorella ha preso uno smalto della linea gel shine molto bello questo rosa guardate che bello un rosa stupendo e questo l'ha pagato 2,50 euro mia sorella ha sempre preso questi Big Color Shadow Stick che sono dei matitoni questo ha una colorazione sul rosa molto bella che vista lì sembra quasi grigia però invece è un rosa molto delicato e anche questa ho paura di aprirla si è così è un rosa così alla punta e costano 5,50 euro l'una e poi sempre di questi matitoni qua che sembrerebbero un po' shimmer poi le chiederò me li farò swatchare però non lo faccio io chiaramente e poi ha preso questo bianco qui poi c'è questo scrub della linea clear skin che è per un'amica e costava sempre 3,25 euro no anzi sì 3,25 euro e questo era rimasto indietro da un vecchio ordine perché mancava il prodotto e me l'hanno inviato con la campagna successiva e adesso credo di aver terminato i prodotti per amici e parenti e passo ai miei ah no c'è ancora un altro abbiamo della linea naturals sempre per la mia amica questa acqua al pompelmo e menta e questa l'abbiamo presa assieme perché c'era l'offerta ovvero erano 4,20 euro con 4,20 euro ne prendevamo due io mi sono presa la pera e peonia e lei ha preso quella con il pompelmo e menta 2 per 4,20 euro la pera e peonia la provo perché è la mia anzi l'ho già sentita ieri a dire il vero però volevo lì sentirla con voi ed effettivamente si sente la peonia si sente la peonia con questa nota fruttata sotto direi che le note coincidono è molto realistica e anche la pera si sente si sente veramente tanto la pera bella bella come fragranza tra l'altro cioè è così intensa che probabilmente dura anche un po' di più di tante acque che ho provato che buona buona poi il Peace and Love che è uno dei toilettes è la novità della campagna 6 ed è questo e ha un pack che è stupendo e questa è una fragranza molto agrumata è agrumata ci sento del bergamotto aggiunto a delle notte fruttate comunque molti molti agrumi molto carina proprio bella bella questa e anche questa secondo me è molto adatta al periodo all'estate molto molto rinfrescante e poi qui c'è una vecchia fiamma che ritorna ed è la On Soft Mask che prendendo due prodotti in alcune pagine del catalogo c'era la possibilità di prenderlo per 6,50 euro a un prezzo di offerta e questo è il packaging molto molto bello ecco è di questa parte la parte dritta e vabbè sa di talcato di 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 coccola io me lo ricordo da quando sono una ragazzina questo profumo e quindi è un ritorno di fiamma sono contentissima di essermelo ripresa è uno dei dei classici proprio di Avon poi ho preso il portacampioncini con dei campioncini di rossetto uno di questi l'ho anche provato ed è un rosa molto molto naturale oggi sono completamente struccata a parte questo rossetto che ho provato di della linea non so di che linea sia dovrò rivedermelo sul catalogo questo rossetto è Blushing Beauty mi piace tantissimo perché è proprio molto naturale come colore e infine siccome sono partita di di pigiami ho ordinato altre due altri due pigiami questa volta delle sottovesti che sono questo si riesce a vedere in taglia 42 molto carino con queste palme con queste foglie di palme e venivano 19,90 sui 20 euro il set e questa verde molto bella col ciocchetto rosso e credo che sia tutto per la mia campagna 5 e 6 di Avon per quanto riguarda i pigiami l'altra volta vi ho fatto vedere il pigiama ibiscus quello fuchsia bellissimo ho preso una 42-44 che purtroppo lavandola si è accorciata di tanto così quindi se anche avete una taglia 42 però siete alte tra il metro 65 e il metro 70 come me è meglio che prendiate la taglia 44 perché veramente cala parecchio essendo cotone 100% e questi invece essendo delle vestagliette secondo me anche se si accorciano di un attimo fa lo stesso e la taglia 42 va bene però per quanto riguarda i pigiami meglio secondo me prenderli una taglia in più e niente oggi mi vedete proprio vestita da casa senza trucco al naturale però volevo farvi questo video unboxing per farvi vedere gli acquisti che ho fatto poi vi farò anche un video review di alcuni prodotti di Avon che sto provando anche della campagna scorsa della 4 e della 5 comincerò un po' a darvi le mie opinioni su questi prodotti spero che questo video vi sia piaciuto che sia un video utile qui ci sono anche i cataloghi della adesso posso salire da qualche parte della prossima campagna che è la campagna 7 e ho anche i cataloghi di campagne successive che ho ordinato e tra l'altro ci saranno delle cose anche molto interessanti bellissima questa campagna qua la 6 è stata perché c'erano parecchi profumi in offerta poi tra l'altro mi è piaciuto perché hanno dato anche alcune informazioni riguardo ai nasi famosi come Cresp o le onerine blank che li hanno creati quindi era un catalogo molto bello per quanto riguarda la profumeria fatemi sapere anche voi se avete acquistato da questa campagna se vi sono piaciuti i prodotti se le conoscete datemi anche dei consigli perché io ho i prodotti soprattutto di make up li conosco veramente poco e sto cominciando a sperimentarli perché sono tanti tanti anni che non trattavo più i prodotti della Avon vi mando un grosso bacio vi saluto ci vediamo presto su questo canale ciao ciao ciao